non ti senti un po' a posto o ti senti scombussolato? piccola e imprecisione se la vogliamo chiamare ti sei svegliato e non eri più come ieri praticamente andiamo quanto effettivamente? ok rimpicciolisco un po' l'orecchio perché si è anche allungato effettivamente si rispetto all'altro si è anche allungato ehi ciao come stai? va tutto bene? a me pare leggermente proprio leggermente di no cosa ti è successo? non ti senti un po' a posto? ti senti scombussolato? in effetti lo vedo dal tuo viso sai? sì 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 no non ti preoccupare qualcosa che si può comunque rimediare perché sei venuto qui? per il motivo? ok per il motivo a cui sto pensando io giusto? hai bisogno di una messa a posto? beh allora sei capitato nel posto giusto? nel canale giusto? si metterò un po' al tuo viso visto che c'è qualche piccola e imprecisione se la vogliamo chiamare ti sei svegliato e non eri più come ieri praticamente si aggiustiamo un po' le orecchie e il naso e la bocca ok? non ti preoccupare nulla a cui non si possa rimediare certamente certamente ok posso iniziare a dare uno sguardo alle sopracciglia ne vedo una molto molto più alta dell'altra vediamo un attimo quindi questa questa qui pare essersi sollevata di più rispetto a questa giusto? ti posso aiutare in questo? la forma è uguale ma una è più alta rispetto all'altra allora vediamo quanto effettivamente? eh si questa sa un po' più su in effetti questa qui si si tendi troppo a fare così? mmm non ti preoccupare adesso diamo una sistemata dopo passeremo un po' a tutto il resto del viso al nasino anche al nasino anche al nasino anche al nasino allora non ti faccio male non ti preoccupare sarà piuttosto rilassante ok ok allora letteralmente ti aiuterò ad aggiustare il tuo viso no ma quale chirurgia estetica no? ok allora sollevo un po' più su questa poi vado poi vado più giù giro un po' il viso no è a posto è a posto leggermente proprio da passare un po' più questa ok le sopracciglia abbiamo aggiustate poi chiaramente il fatto che questa sopracciglia si sia alzata un po' di più rispetto all'altra fatto si che anche l'occhio ti rimanesse così un po' più aperto e l'altro leggermente più chiuso ma anche questa è una manovra per me facile facile da fare chiudi 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 gli occhi chiudi chiudi l'occhio in realtà ah no no non ti preoccupare non rimarrà chiuso chiudi rilassa la polpa bene così rilansati disteso si chiudi 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 ok aprimi gli occhi entrambi chiaramente ok 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 continuo a chiudere un po' di più qua chiudo 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 ok adesso chiudi e apri gli occhi ok ok bene sono sistemati gli occhi vediamo adesso le orecchie effettivamente un orecchio sta qui l'altro sta qui scendo con questa oh ma cosa hai fatto eh è completamente asimmetrico questo cerebro vedrai verrai fuori simmetricamente bene si verrai fuori simmetricamente bene tra quello tornerai come eri fino all'altro ieri ok rimpicciolisco un po' l'orecchio perché si è anche allungato effettivamente si rispetto all'altro si è anche allungato ok non ti preoccupare ci penso io sono qui per prendermi cura di voi in fondo no ok 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 le orecchie abbiamo messo a posto del sorriso il sorriso il sorriso il sorriso non riesci troppo a sorridere non riesci troppo a sorridere ok senti tipo tirare qui allora adesso ti aiuto un po' così ok ok tiriamo provo a sorridermi adesso a posto rimodello un altro po' il tuo sorriso hai anche delle macchiette sul viso vedo eh si è sporcato ah non vengono via queste macchiette hai lavato il viso più e più volte ma ci sono rimaste queste macchiette qui anche le macchiette qui sono così tranquillo ora andiamo a sistemare intanto andiamo con il sorriso ok ok provo a sorridermi adesso ti deve avere un buon sorriso così sorridi sorridi ancora ok bravissimo direi che anche sulla bocca ci siamo ora non sentirei più tirare qui ok bene allora ho notato che hai delle macchiette un po' sparse sul viso mi sembrerà il caso di rimuoverle con un po' di speed painting ma giusto leggermente ti da fastidio mi sembrerò il caso di un po' di speed painting ok 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 c'è un altro piccolo macchetto di qua su questo guaccio ok 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 e l'è rimasto anche un altro po' sul naso Allora, a livello di macchie, mi sembra tu sia a posto, abbiamo fatto sparire le macchie E non lo so come mai con la normale detersione del viso non siano sparite, però adesso l'abbiamo tolta Sì, puoi stare tranquillo, no, non compariranno più, qualora dovessero comparire, sai dove passare Vediamo il naso un po', è abbastanza lungo il naso, è abbastanza lungo, sì, come mai? Non te lo so spiegare, fino a ieri era più piccolo, la metà? Ah no, quindi è cresciuto leggermente, ma pensi durante la notte sia successo? Ah, l'ho visto praticamente crescere per qualche giorno Va bene, va bene, non ci far caso, quando accadono queste cose ci sono sempre io a rimediare Allora, stringo eh, prendo, vado eh, no, non ti faccio male, giuro, 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 giuro Hai sentito male finora? Ah no, come? Ti puoi solo rilassare addirittura, dormire, ma male, non ne sentirai male, nessun dolore Tranquillissimo proprio 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 guardati un attimo allo specchio, vedi se il ridimensionamento che ti ho realizzato va al caso tuo o no? guardati un attimino allo specchio va bene? ancora leggermente più piccolo che lo vuoi, va bene ok adesso dimmi, riguardati allo specchio cosa ne pensi perfetto infatti toccare un po' il viso perchè vorrei dare anche una leggera sistemata alle guance a legger massaggio un leggero massaggio ok distendi anzi distendo distendo distendere 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 io credo che tu sia tornato ad essere come eri qualche giorno fa ma magari avrei fatto qualche sogno in un pochetti avrà scomposolato tranquillo distendere non vi preoccupate ci sono io che vi tranquillizzo e vi risistemo si face adjustment vedi di ora guardati allo specchio va bene? perfetto mi fa molto 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 viaggiare no no non ti preoccupare assolutamente non mi devi nulla però passa da qui ogni volta che ne avrai bisogno ok? d'accordo? allora ciao ci rivediamo eh mi raccomando ciao